va giù sto vedendo di tutto su youtube su facebook che ho detto sai che c'è ma io lo faccio pure io il video di questa roma lo faccio anche io anche se ci stanno 50 gradi ma io non lo voglio fare il video della roma ma facciamolo anche noi il video della roma facciamolo anche noi il video della roma va giù a me io sto vedendo miracolo murigno va giù tutto blocca una coppia di merda tutto blocca come se la vinciamo noi la coppa italia è una coppetta la supercoppa è una coppetta l'europa league è una coppetta a vincere murigno perché per qualche youtuber deve andare contro ad allegri ha fatto un miracolo io sono contento per i tifosi della roma perché una piazza come roma calcisticamente napoli roma questo è delirio per loro è festa ed è giusto che festeggiano ma sentite certi youtuber che murigno ha fatto un miracolo per aver vinto una conferenza lì ah giù ma giuriamo il baracchio e il baracchino giuriamo queste cose ma cosa fa frate ma io per favore è stata a me ma cosa devono sentire le mie orecchie murigno miracolo la coppa ribba no io va giù quella è la coppa la tengo in tuo frigorifero la coppa la tengo in tuo frigorifero la coppa la tengo in tuo frigorifero il caffè del nonno eh la coppa del nonno io va giù ma vi voglio bene imbarazzante 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 che tra l'altro sa meritavano fare il nord perché parmi patrice affattivi da me che stiamo parlando solo i tifosi della roma hanno diritto a festeggiare e a scassate cose calcisticamente questa sera ma ho il resto dei youtube il resto di youtube ma che cazzo parlate a fare ma che parlate a fare che avete screditato addirittura l'europa league voi fusi rai uendus abbiamo screditato addirittura l'europa league ma la vuoi smettere ma la vogliamo smettere una stagione salvata da questa coppa perché se non vinceva sta coppa o signor murigno ma di che cosa che sto vedendo io su youtube ma fate più mannaggia mi sei ma dov'è la coerenza dov'è la coerenza dove cazzo l'avete messa la coerenza dove cazzo sta dove cazzo sta la coerenza ma perché io ci senti sempre stronzate su sto youtube perché devo sentire sempre stronzate io almeno a modo mio nella mia lingua che è uno dialetto in italiano in afghano si capisce niente ok sono d'accordo però tu faccio capì mi miracolo murigno menta mentalità europea macci iscriviti al canale lascia un mi piace questo è il mio pensiero mi dispiace questo è il mio fortutissimo pensiero nice